ma ragazze buongiorno buongiorno com'è che due mazze due mazzi di rose comprate lo stesso giorno uno ancora è diciamo belle uno già l'ho dovuto buttare l'altro l'altro mazzo l'ho buttato stamattina perché ormai erano non si sono aperti i boccioli le rose non si sono aperte ed erano completamente mosce comunque ragazze sta facendo vi devo dire è un tempo bello perché c'è il sole però allo stesso tempo c'è fresco si sta veramente bene ho dato l'acqua alle piante questa sempre ancora un po le foglie un pochino mosce ma ora si riprende vi devo dire che entro perché c'è proprio aria frezza comunque raga ieri sono uscita sono stata quindi dal ginecologo con mia figlia vi aggiorno tutto a posto proprio siamo contenti perché tutto a posto la bambina è incanalata bene è messa in posizione bene e appunto il dottore ci ha detto quello che dovevamo fare perché ora si avvicina a luglio praticamente i primi di luglio mia figlia avrà la visita con l'anestesista farà gli esami di routine quali elettrocardiogramma l'anamnesi con i medici tutto quanto e poi verso fine luglio aspettiamo che la bimba che vi ho detto si chiamerà ancora non lo sanno alice oppure aurora finalmente poi insomma l'avremo tra le braccia allora prima i nomi erano il primo è stata aurora poi mia figlia ha pensato ad alice però salvo il papà diciamo che preferisce aurora quindi faranno poi una specie di sorteggio con questi due nomi io spero che esca alice perché a me piace di più è più è meno sentito mi sembra più particolare però insomma loro sono i genitori salvo il papà quindi anche salvo ha diritto giustamente a scegliere ragazzi allora intanto io ho avuto i miei figli a cena ieri sera non vi ho registrato nulla perché insomma tutte le volte tutte le volte che adesso non va bene e mio marito ha fatto una pasta con aglio e olio ragazze che ce la siamo litigata perché intanto ne abbiamo fatta una porzione per mio figlio che a pranzo non aveva mangiato la pasta quindi ne abbiamo fatto la porzione però con il peso abbiamo abbondato perché mio marito poi la voleva assaggiare ragazze l'ha fatta così buona veramente così buona che ce la siamo litigata io l'ho assaggiato mia figlia pure niente ragazze veramente è insuperabile quindi vi stavo dicendo appunto che ieri ho avuto i miei figli quindi stamattina una bella cucina da fare ma io sono contenta perché quando ho i miei figli sono felice sono a buon punto anche se è tardi perché sono le 12 passate però sono a buon punto cucina fatta bagno fatto devo passarci il mocio e già sono pronta una lavatrice di bianco che si sta lavando maia come al solito buttata al letto come se avesse fatto chissà che in realtà la mia principessa non fa niente dalla mattina alla sera se non che bere mangiare farsi qualche corsetta a poi vi faccio vedere la c'è il sacchetto con le cose che ho comprato ieri e ho comprato non so se ve l'ho detto le cose io ea mia figlia le ho comprato una tuta che le sta d'incanto una tuta rosa è molto fresca molto estiva difatti lei se la vuole mettere per il suo compleanno che sarà il 7 giugno proprio una tuta che le sta una delizia e quindi ieri ho fatto un pochino di acquisti ha comprato queste cose ora naturalmente al più presto ve le faccio vedere ragazze non siate impazienti al più presto ve le faccio vedere e ora sono sola perché mio marito aveva appuntamento col dentista e quindi è sceso in città niente io mi sto facendo le pulizie mi sto guardando cortesie per gli ospiti che ci sono tutte le repliche io le vedo sempre con piacere specialmente quando ci sono quando mi ricordo di alcune puntate che sono particolarmente belle per me significa che ci sono le case molto belle e quindi così me le sto ragazze poi alla fine ci cado sempre perché praticamente sto passando il mocio in tutta la casa perché una volta che ho il tempo che sono sola che lo chef non c'è che mi fa premura e quindi una volta che mi sono fatta tutta la zona giorno cucina zona pranzo zona dei divani l'ho fatta tutta quindi poi dico vabbè che ci metto a fare pure le due camere e quindi ci casco e pazienza ne sto facendo però penso oggi è mercoledì e poi magari sabato che ne so e mi concedo magari di mattina un'uscita o lo faccio di nuovo non lo so intanto ora da una passata ho tolto i tappeti così poi come dire sono contenta e tranquilla che mi sono pulita tutta la casa ragazze oggi lavaggio pennelli quasi tutti li ho lavati ne è rimasto qualcuno che in realtà era pulito quindi non ho trovato la necessità appunto di lavarli e ora sono già belli asciutti questo è l'ultimo che ho comprato di shane quello che serve per il correttore questo qua e niente così sono tutti belli puliti questo è quello per il fondotinta liquido e anche compatto da quando ho cominciato a provare questo mi piace tantissimo sto cercando di asciugarlo vedete esce sempre un pochino pochino di fondo vi dicevo da quando ho provato questo pennello non l'ho più lasciato perché mi viene meglio della beauty blender proprio questo pennello lo adoro veramente ok ragazzi allora guardate che splendido mare che c'è la giornata è sempre bella fresca e c'è un pochino di venticello ora io sto andando un pochino a riposarmi ho fatto tante cose stamattina ve l'ho detto perché poi passando il mocio io penso che anche voi siate così dite vabbè ho fatto questo faccio pure questo faccio pure quell'altro e nel frattempo facciamo tutta la casa comunque ora vado a riposare un poco di pomeriggio non ho nessun impegno avrei l'impegno finalmente di andare a ritirare il tappeto in tintoria però può andarci anche mio marito da solo e poi dovremmo comprare qualche cosa di spesa qualcosa che manca ma poca roba quindi non lo so se scendo pure io non ve lo so dire comunque se scendo e vedo qualche vetrina vado in qualche centro commerciale vi porto con me però ora come ora direi che mi vado a riposare e non mi va di andare in nessun posto ok ragazzi allora io vi saluto intanto aspettate di qualche video haul perché vi devo fare vedere le cose che ho comprato ieri e ho ancora qualche altra cosina da comprare quindi poi vi faccio direttamente un video haul per tutti e per tutto appunto tutto quello che ho comprato intanto vi saluto ragazze con questa vista meravigliosa e vi mando un bacio